I codibugnoli costituiscono un gruppo di piccolissimi e graziosi uccelletti, con una lunghezza di 15 cm, compresa la coda molto lunga, che da sola raggiunge 7-9 cm. La dieta è essenzialmente insettivora. Questi uccelli si nutrono in prevalenza di piccoli insetti, privilegiando le piccole falene, di cui mangiano anche le uova e i bruchi. Il cibo viene reperito principalmente ispezionando rami, foglie e tronchi, mentre è più raro che i codibugnoli caccino le loro prede al volo. Grazie per la visione!